e ora qualcosa di completamente diverso gli auguri dei wargamer italiani è natale ogni volta che si asciuga una lacrima negli occhi di un bambino è natale ogni volta che si depongono le armi ogni volta che si firma un accordo è natale ogni volta che si interrompe una guerra e si schiudono i pugni è natale ogni volta che si obbliga la miseria ad andarsene via è natale sulla terra ogni giorno è natale fratello quando c'è l'amore auguri a tutti allora salve ragazzi un abbraccio tanti auguri da parte di riccardo affinati e da tutto il gruppo di accademia wargame e sempre faber castel buon natale oh ciao a tutti e bentornati al progetto brute game e cultura cogliamo quest'occasione per farvi i nostri migliori auguri per queste festività e vi ricordiamo di continuare a giocare con i war games ed imparare con essi perché molto spesso i sogni si realizzano buone saturnalia ciao a tutti approfitto assieme agli altri per augurarvi un buon natale buone feste un ottimo inizio anno un buon anno 2022 speriamo che sia migliore del precedente e mi raccomando bevete e giocate responsabilmente ancora auguri tanti auguri di buon natale felice anno nuovo dalla lumaca games cari amici wargamer anche quest'anno è passato tra kovid giornate in cui non si poteva giocare per il lockdown mascherine altro speriamo in un anno migliore ricordatevi che alla fine ce la faremo buon natale buon anno buona befana o quel che sarà per voi e da pisa è tutto quindi ancora auguri da me e da spartaco ciao 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 a tutti sono luca vedutini dei giochi del gipeto vi auguro un felicissimo natale un buon finiturno e un buon inizio del prossimo turno sperando che il prossimo turno sia molto meglio del turno appena passato e mi raccomando non fate troppe incette di supply point per i cenoni ciao ciao a tutti dal vostro fisico e benvenuti a questo nuovo video no scherzo questo è solo un video per dirvi buon natale buone feste tanti auguri ragazzi divertitevi e che il 2022 sia pieno per voi di giochi di wargame di tutto quello che può piacervi tanti auguri ciao Ciao a tutti da Alex Furia Buon Natale E mi raccomando Niente paura Sono solo World Games Tanti auguri e buone feste della Roll Therapy Tanti auguri Basta con i soldi di X Encounter È un wargame, non è un wargame Se vi piacciono i giochi di ruolo Venite su Roll Therapy Veniteci a trovare, sì sì, tanti auguri, tanti auguri Ho pescato Idle Time Che cosa possiamo fare? Praticare scherma? Studiare tattica? O corteggiare una lady? Ma giochiamo ai wargame Buone festività cari Grognard Buone festività di Nevoso Buone feste a tutti, ciao! Riccardo, ti ringrazio molto dell'opportunità Invio i miei migliori auguri a tutta la comunità dei giocatori Per un buon Natale Un felice anno nuovo Lunga vita e prosperità Auguri a tutti quelli che preferiscono Napoleon Last Battles alla tombola E Advanced Squad Leader al Mercante in Fiera Auguri di trovare bei giochi sotto l'albero Magari pieni di miniature o tabelloni esagonati E un bel periodo di pace e serenità a tutti Con guerre soltanto simulate Beh, e dopo tutti questi auguri Auguri anche da parte mia Buone feste Buon 2022 Da Riccardo Masini Vlog Checkpoint Charlie E tutto il resto Ciao Ciao Ciao